Ma dunque, faccio il possibile per esserlo, ci vuole un bel coraggio, almeno per come intendo io la felicità. Io la intendo la felicità nel senso proprio stretto del termine, la capacità di farsi succedere le cose, come dice per esempio l'inglese happy, che viene dal verbo happen, succedere. Happy è quello che si fa succedere le cose. E penso che il contrario di felice sia contento, cioè che l'infelicità massima è l'essere contenti. Contentezza è il trattenersi, il restare nella zona sicura, il aver paura di mettere a repentaglio qualcosa e non prendere decisioni, se non decisioni già prese. La felicità sarebbe invece il cercare decisioni nuove e l'affacciarsi a un mondo non prevedibile. Cerco di essere il più imprevedibile possibile nel più imprevedibile possibile dei mondi.